La Nazionale Terremotati di Calcio è giunta a Lecco nel weekend, ospite del Sodalizio Gli Amici del Venerdì. La squadra, allenata dall'ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, è nata nel 2017 ed è formata dai rappresentanti dei diversi comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto dell'agosto 2016. A Lecco hanno partecipato alla 36 ore calcistica organizzata alla Regamonti Ceppi nel fine settimana e quest'anno finalizzata all'acquisto di un pulmino per il trasporto dei bambini che abitano nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia. L'idea è nata quasi per gioco. Io personalmente, che sono il capitano, ho chiesto al sindaco Pirozzi se voleva fare l'allenatore di una squadra che rappresentasse tutti i remotati. C'era bisogno in quel momento, subito dopo il sisma, di qualcosa che rappresentasse, che inorgoglisse la parte dei terremotati, soprattutto degli adolescenti, dei giovani. E quindi abbiamo dato vita a questa selezione che è composta da persone, ripeto, di tutte le regioni, quindi persone da Amatrice, da Cumulo, da Pieve Torina, da Visso, da Campo Tosto, da Norcia, da Cascia. Quindi sono tutti i terremotati, tutte persone che hanno perso la casa e che giocando a pallone in giro per l'Italia raccolgono dei fondi per realizzare dei progetti. La cosa importantissima è che noi prima di ogni partita dichiariamo e presentiamo il progetto al quale saranno destinati i fondi. Com'è attualmente la situazione? Attualmente purtroppo la situazione, dopo due anni, è statica. Stiamo sollecitando le autorità competenti e le istituzioni ad accelerare perché si sono persi molti posti di lavoro, hanno chiuso molte aziende. Se non si procede a una ricostruzione effettiva, a un coinvolgimento, soprattutto dal punto di vista del lavoro, dei terremotati, quelle zone dell'entroterra, dell'Appennino moriranno. Qui stiamo parlando di un fiore all'occhiello dell'Italia, artigiani. È bene che si sappia, è bene che in Italia si sappia e che si spinga tutti quanti nella stessa direzione perché non si può far scomparire e far morire quelle terre. Noi siamo un gruppo di amici che dal 1974 sul territorio di Lecco si diverte a giocare a calcio tutti i venerdì sera. Nel contesto crea iniziative di solidarietà, di amicizia e di sostegno a determinate situazioni. Quindi cerca di collaborare col territorio in qualsiasi modo. Quest'anno è stata la volta di dare una mano alle persone che nel centro Italia sono state colpite dal terremoto del 2016. L'obiettivo è quello di raccogliere dei fondi per contribuire a una loro causa, un progetto che loro ci hanno inviato mesi fa, che è quello di poter sostenere l'acquisto di un bus che loro utilizzeranno per raccogliere i bambini che tuttora si trovano nelle varie sede dislocate degli accampamenti, chiamiamoli così, del terremoto, per portarli a fare attività sportive e raccogliere ragazzi disabili che devono svolgere le loro attività sociali, normalmente nel quotidiano.